Paolo Isabettini è il fondatore, l'animatore, insomma colui che ha iniziato questo percorso ormai un po' scoppiato in mano, nel senso che D'Aiamark è diventato nel giro di brevissimo tempo un punto di riferimento su come si sta muovendo il mondo del volontariato, su come si stanno valorizzando i prodotti tipici del territorio, di come c'è anche una risposta dal punto di vista della sensibilizzazione. Siamo tra l'altro esattamente nei luoghi dove, vedete, non sono luoghi come li possiamo immaginare purtroppo prima del sismo, ma sono luoghi provocati dal fatto di poter trovare un ricovero anche per chi fa un'attività come la nostra. Al numero 4 e al numero 11 di questi container c'è l'aspetto operativo di D'Aiamark, di cui chiediamo a Paolo innanzitutto di raccontarci un po' l'inizio e come si sta sviluppando fino ad oggi. Allora, D'Aiamark è un progetto che è iniziato due settimane fa, quindi giovanissimo, è nato dall'esigenza di tanti commercianti e realtà produttive locali che sono state danneggiate dal sisma. È nato appunto dal fatto che tantissime aziende avevano dei prodotti immagazzinati, stoccati e anche in sovrannumero, visto il Natale comunque alle porte, e non sapevano più a chi venderli. E allora ci è venuta questa idea a me e agli altri volontari, perché io sono, come dici, l'ideatore e fondatore, ma in realtà sono soltanto uno tra tantissimi, perché la macchina di D'Aiamark che ormai è pienissima di giovani, siamo più di 160 volontari in tutta Italia che hanno aderito a questa iniziativa, per poterli aiutare a dare una nuova domanda alla loro offerta. Quindi se nei centri storici delle città danneggiate nessuno passeggia più a vedere queste vetrine, noi offriamo una vetrina virtuale per poter appunto acquistare prodotti marchigiani e dare introito a questi negozianti danneggiati. Beh, innanzitutto ricordiamo che siamo a Tolentino, perché parte da Tolentino, Paolo è di Tolentino, gli altri ragazzi, parlavi di un numero di 160, per cui un numero così importante in poco tempo, che vengono da altre zone delle macchie, immagino colpite, ma anche da altre zone d'Italia. Qual è un po' la geografia su cui vi state muovendo e su cui c'è stata una risposta significativa? Allora, la geografia, puoi capire che problemi abbiamo avuto di team building, no? Per gestire tutti questi volontari. Gli operativi, quelli che effettivamente lavorano, sono quelli che stanno fisicamente qua. E poi sfruttiamo tutta la rete degli altri volontari, comunque per fare delle cose che si possono svolgere anche in remoto. La geografia, sì, sono tanti marchigiani, ma ci sono anche tantissimi piemontesi, ci hanno scritto da Torino. Abbiamo un team che sta a Milano e che farà tra poco una fiera a Milano per noi, quindi in realtà tutta Italia ci ha risposto. Il nome è D'Aiama che è provocato da una, come dire, una scelta spontanea, che ovviamente non c'è bisogno di spiegarla, no? No, valuta il fatto di poter ritornare alla riscossa e a poter rivalorizzare qualcosa che purtroppo sta andando perduto? O c'è un significato, come dire, più profondo che non conosciamo? No, esattamente come hai detto tu, innanzitutto è stata una cosa molto istintiva. Era un messaggio, esortiamo tutti a reagire, no? In una maniera come solo magari i marchigiani sanno fare. Quindi è un termine anche dialettale, però esorta a fare di più, a riprendersi. Perché comunque lo sconforto è tanto, anche se non ci sono state vittime, c'è una grandissima tristezza. Ci sono stati disagi non solo fisici alle nostre case, ma anche socio-economici. E la cosa bella è che D'Aiama, quindi questa ripresa, non è soltanto relativa al sisma, ma si sta creando anche uno spirito comunque di aggregazione e di solidarietà che non è proprio tipico delle nostre zone, non è tipico del centro Italia. Quindi il DAIE è anche per tutto questo che sta accadendo di bello. Dicevamo, numero 4, numero 11 sono i due container, anzi i due ambienti di un unico container dove c'è un'attività. Io volevo con Paolo cercare di entrare, ovviamente non vi aspettate qualcosa che sia estremamente importante, elegante. Non è ovviamente questo, ma di estremamente importante e elegante c'è il cuore con cui i ragazzi che andiamo a visitare, che io ti lascio il microfono, insomma, di presentarci, stanno prestando un'opera straordinariamente importante di volontariato. Sì, allora, entriamo nel container numero 4, dicevo, è un po' spartano perché siamo terremotati per davvero, e questo è quello fisso, ovvero noi tutti i giorni il numero 11 ci viene assegnato meno, e qui vengono svolte tutte le attività di DAIE e Marche, quindi in questo spazio che è di 2 metri per 6, se no facciamo la produzione di contenuti, quindi facciamo le foto di tutti questi prodotti per renderli adatte a un e-commerce, c'è sempre un servizio attivo di segreteria e anzi non siamo così suddivisi in settori stagni perché va fatto tutto in una maniera iperveloce e quindi ci sono dei ruoli prestabiliti che poi vengono rimescolati in base alle esigenze, quindi qui ad esempio stiamo modificando le foto, le foto che vengono fatte nel limbo fotografico vengono modificate e poi tutto ciò viene messo in delle cartelle condivise di modo che tutti i volontari da tutta Italia possono partecipare alla modifica, alla messa online dei contenuti. Qui ci stanno dei prodotti tipici, la generosità anche dei commercianti per appoggiare questa iniziativa che ricordo è no profit, quindi noi non ci stiamo guadagnando niente, lo facciamo appunto per puro spirito di solidarietà e in più sono tutti esperti, i nostri volontari, chi di grafica, chi di programmazione, chi di comunicazione e marketing quindi noi siamo bravi con i tasti e quando avviene tipo il terremoto, una catastrofe forse, comunque una questione come questa chi si trova dietro una tastiera si sente un po' impotente, quindi come posso fare con questo ad aiutare e da Iemark è la risposta a tutto questo. No, direi la cosa che colpisce sicuramente è il fatto che tra le tante e ovviamente tutte meritevoli iniziative tra l'altro mute a livello di volontariato dedicate proprio alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio questa non perché sia meglio o peggio delle altre ma sicuramente ci ha colpito perché non c'è solamente un aspetto importante di volontà quello che raccontava Paolo e di generosità nei confronti dell'attività che fanno ma c'è anche una professionalità che dietro aiuta perché poi bisogna comunque creare un aspetto come dire che è sicuramente solidaristico su cui ci sarà una risposta come voi ci avete già assolutamente importante ma c'è anche l'esigenza poi dietro di avere un aspetto qualitativo che nel corso del tempo possa proseguire un percorso che già sta andando bene perché la cura insomma in questo poco spazio dell'aspetto visual piuttosto che dei contenuti di come li trattate di come stiamo vedendo insomma state anche organizzando il sito con l'e-commerce all'espazio significa che c'è anche una sensibilità dal punto di vista del marketing ma in particolare di carattere digitale per cui immagino che i ragazzi che con te collaborano abbiano anche queste caratteristiche Sì sì sono tutti comunque dei professionisti e degli esperti qui ad esempio abbiamo Edoardo Letizia lui è un fotografo ma in realtà è anche un grafico ci ha dato una mano a realizzare la grafica la stessa cosa lei che è una designer prestata anche al web quindi può svolgere qualunque tipo di dimensione relativa alla grafica ma poi risponde alle mail in una maniera egregia e riesce a essere cordiale con ad esempio tutti i clienti che già abbiamo perché siamo arrivati ad avere più di mille pacchi in ordine con il sito che non è ancora online è già un grandissimo successo e deve ancora partire il sito ma parliamo di poche ore insomma parliamo di poche ore sì come puoi capire ci sono tantissime problematiche ad esempio stiamo ritardando la messa online del sito per il grandissimo numero di ordini e quindi vogliamo che ci sia un assortimento vasto per dare la possibilità anche al commerciante più piccolo di esserci e quando ci sarà il boom della messa online anche lui avrà il suo piccolo spazio mentre ci spostiamo verso l'altra stanza anche perché giustamente andiamo a visitare le altre persone impegnate che abbiamo trovato questa mattina ti chiedo intanto la scelta o comunque la proposta da parte di coloro che appunto hanno prodotti tipici del territorio avviene in quale modo discrezionale? allora noi diamo la possibilità a tutte le attività danneggiate facciamo, essendo capillari sul territorio e distribuiti sul territorio noi riusciamo comunque a garantire l'affidabilità di queste proposte quindi non abbiamo avuto proprio dei grossi esempi di sciacallaggio ma c'è già chi ci ha un po' provato a essere inserito nel sito e noi facciamo un controllo di qualità sul sito saranno anche segnalati con tre bollini dati da taglie marche la qualità del prodotto che si sta comprando ovvero segnaliamo se il prodotto è 100% marchigiano segnaliamo se è stata un'attività colpita con un bollino che si chiama zona rossa e segnaliamo se il negoziante ha applicato un prezzo di favore quindi c'è un pollicione in su che indica il friendly price e significa che ci è venuto incontro che comunque quel prodotto è più basso del suo prezzo di mercato mentre dicevamo ci avviciniamo intanto Paolo ci apre numero 11 quello che diceva lo spieghiamo in maniera un pochettino più particolare in questo modo ci sono state tante esperienze anche in questi giorni purtroppo il sciacallaggio che non è solo quello seppur gravissimo che vediamo nei luoghi disastrati dove entrano le persone cercando di recuperare i beni lasciati da chi purtroppo ha avuto crolli e inagibilità ma anche dal punto di vista digitale dove c'è chi cerca di approfittare della situazione ovviamente non c'è bisogno di dirlo l'attenzione deve essere massima quello che ci spiegava Paolo ovviamente è garanzia al fatto che siamo venuti qua proprio perché abbiamo avuto la certezza che questa sia un'operazione assolutamente corretta ma anche il modo con cui poi loro propongono i prodotti con questa lettura dal punto di vista della certificazione dal punto di vista addirittura di capire se il prezzo è un prezzo che ovviamente viene adeguatamente fornito proprio per un pubblico che deve fare un atto non solamente di un acquisto volontario ma anche solidaristico entriamo e presentaci un attimo questo spazio allora questo è il nostro spazio temporaneo che utilizziamo solo e esclusivamente con i computer adesso ci sono tre delle nostre volontarie c'è Ambra, Martina e Moira che stanno facendo mansioni diverse ad esempio sta modificando il sito è in un'interfaccia da programmatore sta modificando il sito inserendo gli articoli poi siamo in contatto veramente con tutta Europa continuano ad arrivare mail in continuazione per richieste pacchi e qua ad esempio abbiamo dei prodotti una volta che sono fotografati vengono inseriti nel sito e qui si scrivono le descrizioni ad esempio vedete dei pacchi natalizi è ovvio che ci sarà molto enogastronomia in questo sito perché è quella per cui le marche è più famosa ma noi per dare un aiuto reale ai commercianti stiamo inserendo tutto quindi ad esempio il bollino di garanzia zona rossa serve anche quando un utente si troverà di fronte a un prodotto che non è tipico delle marche dice perché sto comprando questo prodotto dal sito Taglie Marche perché significa che si sta aiutando un'attività che ha il negozio inagibile o comunque danneggiato che fino a ieri commercializzava quel tipo di prodotto noi questo lo segnaliamo non c'è il bollino ad esempio che è 100% marchigiano ma raccontiamo anche la storia dell'attività che si sta aiutando andiamo alla conclusione di questa intervista ovviamente innanzitutto a parte salutando le persone impegnate e cercando insomma di dare la maggiore testimonianza più importante rispetto al lavoro che stanno facendo volevo dire chiedevo a Paolo di concludere questo momento nel poter dire quali sono gli obiettivi quali sono le motivazioni per cui le persone potrebbero e auspicabili che aderiscono a questo progetto ovviamente vi aiutino soprattutto nell'acquisto dei prodotti in qualche modo l'hai detto però veramente poche parole per poterci poi rivolgere a chi sta dall'altra parte perché noi abbiamo bisogno che appunto chi sta dall'altra parte possa capire fino in fondo il valore di questa iniziativa comprando un prodotto che si trova sul sito Taglie Marche si ha il valore aggiunto che oltre al valore del prodotto è quello della solidarietà quindi noi cerchiamo anche di mantenere dei prezzi di mercato però c'è sempre questo valore aggiunto l'abbiamo strutturata così non facendo proprio delle catene o comunque mandateci delle donazioni perché anche nello spirito marchigiano cioè piuttosto che ricevere qualcosa preferiamo dare i nostri prodotti tipici in cambio con la certezza che forse renderanno un po' dipendenti questi prodotti perché sono tutti buonissimi e di un'altissima qualità quindi è una strategia un po' furba per ora per aiutarci a comprare i nostri prodotti ma poi ne rimarrete sicuramente colpiti e tornerete magari ad acquistare bravissimi, bravi Paolo, grazie a tutti